Collaborazione e socialità come temi principali di crescere nella cooperazione, un progetto regionale portato avanti da tutte le BCC delle Marche che ha coinvolto nel corso degli anni più di 12 istituti comprensivi dei comuni di Fano, vedendo l'adesione di più di 70 scuole tra primarie e secondarie di primo e secondo grado. Un'iniziativa che la BCC porta avanti da circa 12 anni e che nonostante il coronavirus quest'anno giunge alla sua quindicesima edizione. I ragazzi della Quinta A del Liceo Nolfi Apolloni Scienze Umane sono stati premiati con un assegno di 500 euro per l'impegno e la dedizione messi nell'applicare quei valori di cui il progetto si fa portatore. L'attività che abbiamo svolto fa parte di un progetto di alternanza scuola lavoro che abbiamo cominciato durante il terzo anno, ora siamo al quinto anno e diciamo che siamo stati supportati dalla banca credito cooperativa e diciamo che il nostro progetto aveva l'obiettivo di spiegare la fisica ai bambini. In che modo? Attraverso inizialmente l'idea era di fare quattro laboratori e i primi due anni abbiamo studiato principalmente la parte teorica. Quest'anno c'è stata data la possibilità appunto alla Memo rispettando le misure anticontagio e quindi diminuendo il numero di bambini e anche di conseguenza il numero dei laboratori siamo riusciti nelle due giornate del 2 ottobre e del 3 ottobre a svolgere i nostri laboratori e diciamo che è stata un'esperienza molto formativa e anche interessante perché finalmente siamo entrati realmente sul campo quindi facendo un'esperienza un po' più concreta. Siamo riusciti a mettere in pratica tutte le parti teoriche sia di fisica che di psicologia e pedagogia che avevamo studiato in precedenza. Come BCC siamo anche noi una cooperativa e quindi crediamo in questi valori, cerchiamo di metterli in pratica ogni giorno e siamo molto contenti se nelle scuole insomma si insegnano appunto questi valori. Insegnare ai ragazzi come funziona un'impresa cooperativa dando basi anche di carattere economico per far sì che gli studenti una volta entrati nel mondo del lavoro abbiano le idee chiare nel caso decidano di continuare su questa strada. Il valore educativo è stato anche però da un altro punto di vista cioè il progetto crescere nella cooperazione ha l'obiettivo proprio di promuovere una didattica centrata sulla collaborazione e questo ha un valore importantissimo sul piano educativo particolarmente oggi in cui il clima invece è estremamente competitivo e i ragazzi soffrono da questo punto di vista ecco l'aspetto come posso dire più personale ecco. Continueremo sicuramente con le scuole a lavorare per diversi modi e quindi per far sì che la nostra banca sia conosciuta e soprattutto sia conosciuta per le attività che fa non soltanto nell'ambito economico quindi attività di impresa diciamo essere vicini al mondo delle imprese ma anche il mondo della formazione della scuola quindi la nostra intenzione è quella di continuare questo progetto che è un progetto di coinvolgimento dei ragazzi, dei professori, delle famiglie quindi è un modo concreto di far crescere il territorio. Grazie a tutti.